Buona giornata e ben ritornati Buona giornata e ben ritornati nei sui tele e radio pace in questo 30 di novembre quindi chiudiamo insieme il mese appunto l'undicesimo e penultimo mese del 2023 Buona giornata da parte di Marco Revello ma anche da parte di Paolo Solari che cura la parte tecnica e regia di Andrea Capitani e Cristiano Neto che sono già in redazione E poi oggi 30 novembre insomma sappiamo che il mese appunto l'undicesimo mese dell'anno finisce con un santo molto importante un santo diciamo protagonista di diversi passi del Vangelo e poi degli atti degli apostoli Cioè uno degli apostoli più nominati appunto dai Vangeli cioè Sant'Andrea Sant'Andrea Apostolo quindi naturalmente un nome che da millenni ormai è da millenni appunto è un nome molto utilizzato Utilizzato sia al maschile che al femminile ecco forse è l'unico nome che davvero viene utilizzato in entrambi i modi senza nemmeno essere variato E poi ancora la chiesa ricorda e festeggia San Galgano Guidotti, San Giuseppe Marchand, Sacerdote Martire, Beato Giovanni Garbella da Vercelli, Beato Federico da Ratisbona, Beato Giuseppe Ottina Achillè, Sacerdote Salesiano e Martire, San Mirocleto, San Gudberto Main, Sacerdote Martire, San Taddeo Louis Ruting, Sacerdote Martire, San Tugual, Vescovo e Abate E poi i martiri Alessandro Crow, Ludovico Rocco e Beati Michele Ruedas, Mejas e sei compagni Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono, come abbiamo detto ci sono tanti Andrea e tante Andrea che oggi festeggeranno quindi auguri Ma naturalmente anche coloro che oggi ricordano e festeggiano un lieto evento, un anniversario in questo 30 di novembre che però dal punto di vista meteorologico è una giornataccia Diciamoci, una giornata uggiosa come direbbe Mogol, una famosa canzone di Lucio Battisti, uggiosa perché è grigissima Vediamo che addirittura non si intravede nemmeno quasi il promontorio di Portofino, qua non si vede Sestri Levante e dall'altra parte non si vede il promontorio di Portofino Perché siamo con nuvole bassissime, nuvole che avvolgono quindi tutte le nostre località e arrivano fino a terra praticamente E che ci hanno portato anche nuove precipitazioni, precipitazioni che sono piovose naturalmente su tutta la Liguria Tranne che su alcune vette importanti appunto della nostra regione, si pensa soprattutto all'entroterra savonese Cioè che ci siano appunto possibilità di nevicate sull'entroterra savonese Ma se vediamo la webcam della Limet sul Monte Bue e anche sul Prato della Cipolla dove siamo in questo momento Vediamo questa imbiancatura, certamente non siamo alla nevicata abbondante che magari ci vorrebbe per aprire le piste Però insomma un'imbiancatura, anche perché durante la notte le temperature in realtà sono aumentate Cioè la notte è iniziata molto fredda e addirittura sul Monte Bue sono stati meno 3 gradi e mezzo Sul Prato della Cipolla siamo arrivati a meno 2 E invece poi nel corso della notte, invece che diminuire ulteriormente, le temperature sono aumentate Quindi c'è stata la rotazione dei venti e quindi in questa inizio giornata, in questa inizio mattina In realtà le temperature sono superiori allo zero di pochissimi decimi sul Monte Bue di 2 gradi e 2 sul Prato della Cipolla Quindi molto probabilmente nel proseguo della giornata potrebbe anche piovere Quindi nel senso non aumentare questo strato nevoso ma addirittura diminuire Comunque non è questa la situazione più importante E' più importante che iniziamo una fase di maltempo da oggi e per alcuni giorni Domani sicuramente con forse una tregua nel centro del weekend Ma attenzione perché sabato le temperature diminuiscono seriamente E si parla di temperature vicine allo zero o addirittura sotto zero Per esempio in pianura padana, sulle colline anche della pianura padana potrebbero scendere fiocchi di neve E appunto una situazione d'Italia forse dove non ce la ricordiamo a novembre o inizio dicembre Magari erano forse nel 2017 c'era stata una cosa molto simile proprio a fine novembre inizio dicembre In realtà negli ultimi anni per trovare giornate così fredde bisogna addirittura andare a gennaio o addirittura a febbraio Quindi è un freddo un po' prematuro diciamo così Attenzione alla salute perché purtroppo queste bastonate di freddo portano all'aumento dei malanni E anche la circolazione dei virus ma dobbiamo coprirci, possiamo coprirci In realtà nella giornata di oggi avremo invece una controtendenza Cioè avremo un aumento appunto come detto delle temperature che ci sembrerà Dicevabbè allora non è così freddo Sì oggi non sarà molto freddo In realtà da sabato sentiremo il vero freddo Comunque ci sarà una situazione decisamente diversa Allora andiamo, grazie a Paolo Solari che ci ha portato un po' a spasso Per appunto per la Liguria Andiamo velocissimamente a vedere le altre temperature Abbiamo parlato del Monte Bue e del Prato della Cipolla A Rocca d'Aveto la minima è stata di 0.7 alle 2.23 Poi adesso siamo già a 4 gradi Minima di 1.1 a Rezzo Aglio Basso sopra lo 0 è uguale a Cabanne Siamo a 5.6 gradi a Casali di Borzonasca 5.3 gradi a Belpiano In Val Graveglia 6.3 gradi Stiamo dando le minime della notte A Valle di Malvaro addirittura alle 5 del mattino Erano 2.6 gradi la minima Adesso siamo risaliti a 6.9 Minima di 6.6 a Pezzonasca E di 5.7 a Tribogna San Colombano con 6.3 6.2 a Villa Uneto Scendendo poi nella parte diciamo Rivierasca Troviamo i 7.2 a Santa Margherita Ligure 8.7 a Rapallo Quindi vedete che le temperature sulla costa non sono scese moltissimo 8.3 a Chiavari 8.2 a Lavagna 8.3 anche a Sestri Levante E 9.4 a Moneglia E poi andiamo a Nervi Genova Nervi con 8.3 Nella zona centrale di Genova Marassi 5.2 Nel ponente genovese a Pra Se la troviamo 6.2 Poi abbiamo 6.4 a Quigliano Poco dentro Savona 7.2 ad Imperia E a Ventimiglia 8.4 Andando invece nell'estremo Levante 8.4 anche alla Spezia Quindi vediamo che sulla costa le temperature hanno oscillato tra gli 8 e 9 gradi Sugli entroterra invece siamo scesi un pochino di più La notizia della giornata Le notizie con cui si apre questa giornata sono due Una è una buonissima notizia che arriva dal fronte Buonissima, una buona notizia che arriva dal fronte della Terra Santa Infatti con la mediazione sempre del Qatar Israele ha concesso un altro giorno di tregua in più A Damas per la liberazione degli ostaggi E si spera che non sia l'ultimo giorno di tregua Speriamo insomma che non si rinizi da dopo domani ad uccidere e a fare incursioni Ma insomma ci sono naturalmente speranze che questa tregua possa continuare Anche se poi le proroghe vengono date proprio di giorno in giorno La seconda notizia invece arriva dagli Stati Uniti Un uomo che ha condizionato in un primo tempo la politica statunitense Dal dopoguerra fino alla fine dello scorso secolo E poi in quest'ultima parte di secolo ormai in molto avanzata età Era un po' un opinionista o comunque un osservatore fondamentale della politica americana Stiamo parlando di Henry Kissinger È morto, aveva 100 anni L'uomo che ha plasmato la politica statunitense La voce lenta e vacillante dell'ultima uscita L'ex segretario di Stato americano è morto Non è mai stato presidente, lo ricordiamo Ma ha sempre ricoperto ruoli importanti in alcune amministrazioni E poi è sempre stato un po' dietro le quinte anche se vogliamo È morto nella sua casa in Connecticut Regista dell'apertura degli Stati Uniti alla Cina Riportò il gigante asiatico nel consesso mondiale È stato consigliere di ben 12 presidenti Cioè quindi nessuno come lui ha influenzato la politica americana Henry Kissinger Era intervenuto anche ultimamente sulla vicenda dell'Ucraina Con i rapporti con la Russia eccetera Quindi anche negli ultimi anni Nonostante ormai avesse un secolo di età Si era proprio espresso in maniera sempre con la mente molto lucida Molto lucida e molto razionale diciamo così Poi può essere amato e odiato come personaggio Perché come tutti i personaggi politici Ma andiamo adesso invece sulla prima pagina di Avvenire Se ci riesco eccola qua Allora prima pagina di Avvenire Che titola Ho un titolo che sicuramente è unico nel panorama dei giornali italiani Nessuno apre con questa notizia Italia bocciata sui minori Andiamo a capire perché C'è stata una condanna della Corte Europea dei diritti umani Per aver collocato quattro ragazzi africani All'hotspot di Taranto Che invece era destinato agli adulti Il fatto risale però non a questo governo Meloni Ma neanche al governo Draghi E neppure al conte 2 Non so adesso non ricordo chi ci fosse nel 2017 Quindi il fatto risale al 2017 Ma apre a nuovi possibili rilievi Sul decreto Cutro 2 Che prevede strutture Appunto strutture promiscue Quindi è una condanna Che può essere anche diciamo così Diciamo portata a quello che dovrebbe essere deciso oggi Per Strasburgo sui migranti Trattamento disumano e degradante Nel mirino anche la libertà negata E poi ancora Andiamo a vedere Appunto Un'immagine della terra che brucia La COP più difficile dell'anno più caldo Chiaramente qua non si parla di supermercati Si parla della conferenza sul clima A cui avrebbe dovuto partecipare Anche Papa Francesco Che sapete purtroppo Non ha condizioni di salute Che glielo permettano di andare fino a Dubai Al via da oggi la conferenza ONU di Dubai In Africa la plastica che l'Occidente mette al bando Neocolonialismi Insomma l'Africa è stata sempre considerata Così chissà per quale motivo Dall'Occidente Insomma dai paesi più ricchi Ma adesso anche dall'Oriente Perché vorrei dire che L'Africa è sfruttata anche dalla Cina E quindi non c'entra all'Occidente Comunque Appunto è sempre stata considerata un po' Un territorio dove fare cose Che nelle altre parti del mondo Non si possono fare Come per esempio Stoccare così liberamente Rifiuti anche tossici Anche particolarmente pericolosi E lo è stato fatto negli ultimi anni Sicuramente Ma ragazzi Sicuramente Quasi un secolo che avviene Gaza Corsa ad altra tregua Varati nuovi insediamenti Morto l'ostaggio israeliano più piccolo Praticamente un neonato Uccisi due adolescenti a Genin Parlano le suore di Bethlehem Scuola deserta Troppo pericoloso portare i bambini Oggi insieme ad avvenire anche L'inserto e vita Farmaci Prima la vita O il mercato Insomma l'industria farmaceutica Abbiamo capito che È fondamentale anche In alcune mosse Dei governi Per prescrivere questo Quel farmaco Questo quel vaccino Il caso cospito del Mastro Arriva in rinvio a giudizio Perché appunto Lo vediamo sulla prima pagina Del secolo XIX di oggi Del Mastro viene appunto Inviato a processo Non per volontà della procura La procura avrebbe chiesto L'archiviazione Ma per volontà Del tribunale Insomma Dei giudici Del Mastro a giudizio Rivelò segreti Secondo i giudici Ma Meloni Lo blinda Quindi non si va Verso un decadimento Dei suoi poteri Da viceministro Della giustizia Della giustizia Tra l'altro appunto Ma l'opposizione Invece ne chiede Le dimissioni Questa destra Non rispetta Le regole Il sottosegretario La giustizia Al processo Per il caso cospito Non me l'aspettavo Ma andrò sereno Anche perché Dalla sua parte Alla procura Cioè chi dovrebbe Fare la pubblica accusa E poi oggi Un'intervista Al ministro Degli interni Piante dosi Sui migranti Nei CPR Mai minori Bis del modello Albania E poi ancora Il fisico Cristianini Al forum di Camogli Intelligenza artificiale Ora servono le norme Dopo le parole Del ministro Crosetto I dubbi su WeBuild Allarmano la Liguria Per Diga E terzo valico E poi ancora Banca rotta Da 20 milioni Amir Feitz È in arresto Chi è Alex Amir Feitz Di 51 anni È un imprenditore Molto noto A Genova E non solo Ed è stato Braccio destro Di Sandro Biasotti Quando era governatore Della Liguria Quindi parliamo Di 20 anni fa Perché è arrivato Biasotti Mi sembra Nel 2000 Alla guida Della regione Liguria Ora questo signore È agli arresti domiciliari Accusato di un crack Da 20 milioni Di euro Una vita dietro le quinte Ma decisivo Nei dossier Il personaggio E poi lo dicevamo Amassi Il piccolo Kfir Ucciso dalle bombe Si tratta Sulla tregua Era la più giovane Tra le vite Tra gli ostaggi E adesso vediamo Appunto Il presidente Mattarella Che conferisce Importanti riconoscimenti Ai nostri campioni Azzurri Tamperi Alle star dell'atletica Basta odio Siamo umani E ancora Il festival di Sanremo Giorgia Mannino Cioè Teresa Mannino E Lorella Cuccarini A Sanremo Come co-conduttrici Nelle varie serate Del festival La prima sera Ci sarà Marco Mengoni L'ultima sera Per il finale Ci sarà Fiorello Che quindi Come alla prima edizione Co-condurrà Insieme ad Amadeus Il festival Questa sarà L'ultima edizione Del festival di Sanremo Condotta e diretta Diciamo Da Amadeus Almeno Stando a quanto Si dice Poi chissà I risultati Che verranno Da questa edizione Forse Convinceranno La RAI A far Cambiare idea Al presentatore Andiamo invece Sulle pagine interne Del secolo XIX Quelle del Levante Giovane L'utopatia In 15 anni Dimezzata l'età Dei pazienti In cura Queirolo Psichiatra Di Asle IV Dice Il problema Grande E invisibile Cioè questi ragazzi Che Magari anche Nella loro cameretta Mentre i genitori Sono di là A guardarsi la televisione I ragazzi Stanno al computer E invece Magari di fare Cose che Normalmente si fanno Al computer E si gioca Per soldi Perché molti Molti giochi D'azzardo Avvengono attraverso Internet Attraverso Il normale Computer di casa Quindi non c'è bisogno Di andare né A Sanremo Appunto Né a Monte Carlo Né a Campione d'Italia Basta rimanere lì E giocare d'azzardo E si perdono anche Parecchi soldi Ma soprattutto Si inizia un'attività Che porta Alla dipendenza Dalla media Di 55 anni Pensate che Si è passati Rapidamente A 30 anni Quindi un tempo Giocavano solo Gli anziani Diciamo così Perché la media A 55 anni È molto alta E invece adesso Siamo passati A 30 anni Quindi giocano I 15 anni 20 anni Questo è il problema Il problema enorme Perché poi Chiaramente La ludopatia La ludopatia È una malattia È una malattia A volte anche Direi Che si può Diciamo così Trasmettere Quindi È una malattia infettiva Perché può essere Trasmessa Da un amico All'altro E diventare Davvero Un enorme Problema Cosa C'è Nel nostro Territorio Che contrasta I fenomeni Di dipendenza Anche questa Rete Diciamo Tra ASLE E associazioni E cooperative Sociali Del territorio Mi metto In gioco Tiguglio Nasce la rete Delle associazioni ASLE 4 Caritas Fondazione Antiusura CGL Ampi Nella nuova Accordata Iniziative Di sensibilizzazione Sul tema Oggi Prima riunione Plenaria Al villaggio Del ragazzo Che è uno Dei fondatori Di questa Rete Insieme Anche Al consorzio Tassano Quindi Insomma È una Importante Iniziativa Nel nostro Territorio La coordinatrice Marina Dondero È importante Avere Nel territorio Una presenza Vigile E allargata E andiamo Appunto A vedere L'ASLE 4 Va nelle scuole Superiori Per prevenire Il disagio Psichico L'iniziativa E gli istituti Parteciperanno Saranno presenti Nei prossimi giorni Gli incontri Avranno l'obiettivo Di formare Docenti e familiari Oltre che gli studenti Riconoscere Precocemente Gli atteggiamenti A rischio E parliamo Ancora Di scuola Sempre dalle pagine Del secolo XIX Di oggi Rivoluzione Culturale Dalla scuola Per rigenerare L'idea Di democrazia Lavagna Il direttore Del mulino Pombeni E Borzani Ospiti di futura Sull'attualità Del pensiero Riformista Cioè quindi Si pensa Di rivoluzionare La società Partendo proprio Dalla scuola Però la scuola Ha grossi problemi E andiamo Sul nostro sito Nostro sito Teleradiopace.com Infatti Leggiamo Scuola Nel piano Ligure 2024-2025 Sono previsti 16 accorpamenti Di scuola CGL Sono tagli Non ottimizzazioni Questi allarmi Arrivano quindi Dalla CGL Che dice Attenzione Perché Sono accorpamenti Che possono portare Anche a problematiche Che magari Non sono soltanto Amministrative E organizzative E allora Andiamo a capire Perché Dal nostro servizio Si tratta di tagli Non di ottimizzazioni Così L'FLC CGL Liguria Riassume il piano Di dimensionamento Scolastico 2024-2025 Approvato martedì Dal consiglio regionale Con i soli voti Della maggioranza Sono procedure Determinate Dalla legge finanziaria E dai suoi decreti attuativi Che per la nostra regione Riguardano 16 istituti 6 a Genova 4 a Imperia 3 a La Spezia E 3 a Savona Al momento Non si sa ancora Di che istituti Si tratta Il testo della delibera Dice che Città metropolitana di Genova Non ha ancora espresso Con atto formale Le proprie determinazioni Sulle scuole da accorpare Il provvedimento Va normalmente a colpire Quelle scuole Che non hanno un numero Sufficienti Di alunni e alunne E tutto appunto È dettato Ripeto Da logiche di risparmio Quindi quello che contestiamo Che lamentiamo Che ancora una volta La scuola venga utilizzata Per fare cassa Quando appunto La scuola avrebbe bisogno Di tutt'altro Quindi di investimenti Di organici Di più tempo scuola Generalmente gli accorpamenti Prevedono che si mantengano I locali e i docenti attuali E ad essere ridotti Sono i dirigenti scolastici Il personale ausiliario Amministrativo E tecnico In poche parole Una riduzione del servizio Sintetizza il sindacato Quello che appunto Viene contrabandato Come un'operazione In dolore E appunto Dettata da motivi Di risparmio Dalla spesa pubblica Insomma siamo nuovamente A spendire più A spese appunto Però Della istituzione scolastica Di fatto ripeto Determina poi Una diminuzione Del servizio scolastico Perché Dopo l'approvazione regione Il piano sarà consegnato Al ministero dell'istruzione Che deciderà Come procedere Se optare subito Per il dimensionamento O se spalmarlo Nel triennio Ci ha spiegato L'assessore regionale Competente Simona Ferro Allora Terminiamo Chiudiamo Questo Questo capitolo Scuola E come abbiamo detto Prima Oggi Il rischio di gelicidio Nelle valli interne È un termine gelicidio Che ci mette anche Molto paura Perché Viene Molto assonante Con altre cose Molto Terribili Ma No In questo caso Vuol dire appunto Quando gelano Soprattutto le piante Quindi Galavernage Eccetera O gelate Sulle Sulle strade Quindi attenzione Perché nelle valli interne Ci potrebbe essere il ghiaccio Che in realtà Sarà più probabile Nel weekend Che in questa giornata Perché abbiamo visto Che le temperature Stanno aumentando Un po' Ovunque Però c'è l'allerta E la diamo Seduta di bilancio A Sestri Levante Doppia convocazione Del consiglio comunale La seduta È slittata Da ieri a oggi Perplessi Gruppi di minoranza Non è stata data Alcuna spiegazione E poi ancora Maxi Frana Condannati Regione Comune La Maxi Frana La vediamo È quella che si è Verificata nel 2014 A Capolungo Quindi siamo A Genova Il giudice Piogge mareggiate Prevedibili La costa Non è stata protetta Disposti Risarcimento Per oltre 3 milioni Di euro Gli enti dovranno Anche eseguire Lavori di messa In sicurezza Si stima Un costo Di oltre 10 milioni Di euro Andiamo invece Ad altri argomenti Sempre Dalle pagine del secolo XIX Veniamo nel Tiguglio A Chiavari Il waterfront Del futuro Vediamo che oggi Il waterfront Non si vede Nel senso che No vedete Praticamente c'è la nebbia Quasi sul mare Invece il waterfront È quello che Diciamo sì Affaccia sul mare Premiati i vincitori Applausi A 52 mila euro Per il team Formato dai progettisti Paronuzzi Miraglia Zucchini E Gonzales Bucci Giuria colpita Dall'armonia dell'opera Messuti Moderno e funzionale Il campus In colmata Ecco vediamo I quattro giovani autori Dell'opera Che hanno conquistato Giuria ed esperti E qua appunto Insieme al sindaco Messuti 47 mila I metri quadrati Interessati dall'intervento Di qualificazione E poi ancora Le sculture Del museo Sfrattate da Portofino Andranno al parco Villa Rocca Proposta dai consiglieri Orecchie Giardini Però adesso naturalmente Bisogna vedere Che cosa ne pensano A Portofino Di questo spostamento Di queste opere d'arte Appunto da questa villa Molto bella Vicino a San Giorgio Poi appunto A Chiavere Insomma il tragitto È un po' È un po' È un po' Lungo Quindi non so se Portofino Si priverà Di queste meraviglie Poi la protesta Dei Not Tunnel Arriva al municipio Di Santa Margherita Ligure Presidio E striscione Durante la seduta Consigliare Per il sì Del comune Al progetto Un cartello Per i 28 mila alberi Che sarà necessario Abbattere Lungo il tracciato Quindi anche a Santa Margherita La protesta Del comitato Che si oppone Al tunnel O meglio Al progetto Attuale Del tunnel Della Val Fontana Buona Con tutta la struttura Che sarà edificata A Rapallo Nella zona Di Santa Maria del Campo E vediamo appunto I manifestanti Davanti al municipio Di Piazza Mazzini A Santa Margherita Cadono calcinacci Dalla basilica Sagrato interdetto Sempre a Santa Margherita Ligure Distacchi dal capitello Della facciata Della basilica Di Piazza Caprera E appunto Per evitare Che altre cadute Possano colpire Qualche passante È stato recintato Appunto L'ingresso Della parrocchia Quindi si può Passare naturalmente Dagli ingressi laterali E subito Saranno fatti Appunto sopralluoghi Ma anzi Un sopralluogo È già stato fatto Sono state poste In opera Alcune Diciamo così Situazioni Di risanamento Veloce Ma ci sarà poi Un intervento Vero e proprio Che dovrà iniziare Che appunto Vedrà impegnato Anche l'architetto Roberto Spinetto Per il valutare Al più presto Il da farsi Appunto Viene incaricato Dal parroco Don Luca Sardella Della basilica Appunto Di Santa Margherita Ligure Andiamo avanti E leggiamo altre Notizie Accoglienza Migranti Comuni chiedono Il rifinanziamento Dei progetti In corso Se non vengono rinnovati Scadranno Il prossimo 31 dicembre Ai rifugiati Verrebbero a mancare Assistenza Alloggio E lavoro E sono ancora tanti I rifugiati Sul nostro territorio Quelli che erano arrivati Tanto per capirci Con lo Sprar O con le altre Le altre misure Del governo Che invece adesso Sono Appunto Senza Finanziamenti E quindi Sono nei problemi I comuni Appunto Per poter portare avanti Questi progetti Di accoglienza Mi dicono Dalla regia Che è pronto Non lo vedo Ma ecco Adesso lo vedo Anch'io Andrea Capitani Buongiorno Andrea Marco Buongiorno Bentornato Buongiorno a tutti Abbiamo un aggiornamento Di cronaca Della redazione Ci porta a Genova Perché a seguito Di complesse indagini Tornata in carcere La donna straniera Di 42 anni Conosciuta Per aver messo A segno In questi anni Diversi crimini Informatici Gli investigatori Della polizia postale Della Liguria Coordinati dalla Procura Della Repubblica di Genova Hanno eseguito La misura cautelare Della custodia in carcere Nei suoi confronti Ritenuta Il terminale italiano Di un'articolata Organizzazione Dedita alle frode informatiche Alla ricettazione E al riciclaggio In questo nuovo sviluppo Dell'indagine Gli esperti Di cybersicurezza C'è stato anche Il deferimento All'autorità giudiziaria Di altri soggetti Ritenuti suoi complici La donna Era già stata arrestata A Genova Nel 2021 A ottobre Ma aveva continuato A commettere I reati Anche dagli arresti Domiciliari Per questo Era andata in carcere A giugno Del 2022 Di nuovo Al giomiciliari In un'associazione Di volontariato Del centro genovese Impegnata nel recupero Dei detenuti Aveva ripreso I contatti Con i complici E ricominciato A delinquere Sono state trovate Numerose evidenze Di conti aperti Fraudolentamente Di carte di credito Emesse Oltre che in Italia In diversi stati europei Negli Stati Uniti Oltre a quelle Reperite Nel cosiddetto Dark web Il provento Di queste attività Criminose È stemato In diversi milioni Di euro E in parte È stato investito In criptovalute Non è stato facile Il lavoro L'indagine Della postale Che continuano Per definire Il quadro completo Delle truffe Messe a segno Dalla donna E dalla redazione È tutto La linea torna Allo studio Andrea E andiamo avanti Naturalmente Con altre notizie Ancora dal secolo XIX L'ordine francescano Ha compiuto 800 anni Ne abbiamo parlato Anche nei giorni scorsi Qua in TV Ha compiuto 800 anni E appunto c'è stata La celebrazione Della messa Nel convento Dei frati cappuccini Di Viale Tappani E è preseduto Questa santa messa Dal vescovo Monsignor Devasini Celebrazione Nella chiesa Dei cappuccini Andando oltre Crollo dell'asilo Della torre A Chiaveri Si allungano i tempi Di rientro Per il recupero Degli arredi Il rischio Che il pavimento Ceda ulteriormente Domani si chiudono I primi accertamenti Poi i periti Scriveranno la relazione Si lavora Al trasferimento Di 75 bimbi La speranza Che possano tornare A scuola Lunedì E poi ancora Retti da pesca Recuperati 5.000 metri Di Appunto Di retti da pesca Finiti in mare E poi Portofino Ancora agli onori Delle cronache internazionali Ma soprattutto Anche grazie A delle serie televisive Molto seguite Come The Crown Portofino Torna su Netflix Tra gli eventi documentati La tragica fine Della principessa Lady Diana Spencer Le ultime ore Di serenità Nel Tiguglio Ricordiamo che Pochi giorni Prima di essere Insomma Di rimanere vittima Adesso stavo dicendo cose Che non si possono dire Ma rimanere vittima Di un incidente stradale E appunto Era stata Portofino Su un yacht Con Al Fayed Arrivati a metà dicembre La serie Con audience planetaria Girata anche nel borgo L'attrice Elisabeth Debbic In personale di Di La somiglianza È davvero notevole Il comune Mette a bando Due terreni A Oliveto Portofino Arrivate alcune offerte Che ora Saranno passate Al vaglio E poi no Alla pena capitale Sì alla vita Oggi la giornata Con la comunità Di Sant'Egidio A Camogli La città Aderisce all'iniziativa Per una cultura Di giustizia E umanità E visto che parliamo Di appuntamenti Andiamo a vedere La nostra agenda Come di consueto Appuntamenti in agenda Per giovedì 30 novembre Nell'ambito del festival Dell'eccellenza Al femminile Si terrà Dalle 17 Al museo biblioteca Dell'attore A Genova La presentazione Del libro Ari Pizzari Tessitrice di storie Antalogia di racconti Scritti da 14 autrici Italiane e contemporanee All'evento Oltre la curatrice Alma D'Addario Saranno presenti Alcune delle autrici Ultimo appuntamento Con la rassegna musicale La voce e il tempo Alle 18.30 La sala campana Del teatro Della Tosse A Genova Ospiterà il reading Corale poetico musicale Love Against Incentrato sui poeti Che hanno scritto E lavorato In tempi di dittatura Saranno coinvolti Matteo Manzitti Lorenzo Colombo E il coro Del liceo Pertini Di Genova Un evento Contro la violenza Di genere E non solo E' questo il tema Di Venì No Tenga Miedo Spettacolo sul racconto Di riscatto Attraverso la danza E contro la violenza Tratto dall'omonimo romanzo Di Patrizia De Franceschi L'evento si terrà Dalle 20.30 Nell'auditorium Di Villa Sottanis A Casarza Ligure E nel weekend Ci sarà il Nocciola Day Tante attività coinvolte A Mezzanego Quindi nel nostro Introterra In Valle Sturla Ma andiamo invece Alla situazione meteorologica Della giornata Che ci dice Di una perturbazione Che ha raggiunto Durante la serata di ieri E la notte Il nostro territorio Iniziato a piovere Con qualche fiocco di neve Anche sulle alte vette Della Val Daveto Abbiamo visto prima appunto La foto Della webcam Di Vediamo se riusciamo a vederla Ancora adesso La webcam Del prato Della cipolla Embiancato Insomma Un'imbiancatura Non è ancora Quella Che magari Ci si aspetterebbe Per aprire le piste Però insomma È sempre un'imbiancatura Importante E Adesso Non riusciamo bene Ad arrivarci Comunque La situazione Della giornata Di oggi Vede piogge Piogge Che saranno In un primo tempo Diffuse Su tutta la Liguria Poi nel corso Proprio nella parte centrale Della giornata Sembrerà Magari che diminuiscano Soprattutto su centro E ponente Per poi riprendere In maniera Più seria Durante la parte Seconda del pomeriggio Cioè la serata Quindi ci sarà Un'intensificazione Della nuvolosità Ma anche Soprattutto Delle piogge Con venti Dai quadranti Settentrionali Su Savonese Genovesato A regime di Libeccio Sull'estremo Opponente Costiero Ostro Libeccio Sul Levante Con rotazione Ovunque Libeccio In serata Riforzo Dei venti Fino a forte Il mare Quindi sarà Poco mosso Fino a mosso Ma con moto Ondoso In aumento In serata Fino a molto mosso Le temperature Massime In realtà Aumenteranno Perché grazie a Questa rotazione Dai venti Dai quadranti Meridionali Dall'Ibeccio Avremo temperature Un pochino Più dolci Quindi siamo Sui 15-16 gradi Nonostante sia Il cielo Nuvoloso Quindi oggi Che è tutto Nuvoloso Sarà più caldo Di ieri Che c'era il sole Cioè questo Un po' Diciamo così La morale Di questa Di questa favola Mentre invece Andiamo a vedere La situazione prevista Per domani Primo dicembre Ancora un'altra giornata L'insegna Dell'instabilità E della Appunto Della pioggia Con cielo coperto E precipitazioni Moderati fino a forti In serata Soprattutto a Levante Venti forti Da sud Doves Fino a Burrasca Qui sul Levante Sui Grinali Nelle zone maggiormente Sposte Con mare Molto mosso In aumento Fino dal mattino Fino ad agitato Nel pomeriggio Su centro Levante Quindi arriva Un'altra mareggiata Da Libeccio Temperature In aumento Ovunque Quindi questo aumento Di temperature Coinvolgerà anche La giornata Di domani Che è il primo giorno Del mese di dicembre Come inizierà Sabato Due dicembre Allora le tendenze Per sabato In questo momento Di una giornata Caratterizzata Da varie situazioni Inizialmente brutto Poi nel corso Della giornata Ci sarà una diminuzione Di fenomeni Ma quello che si sa Di sabato E di domenica Che le temperature Scenderanno E in maniera Piuttosto sensibile Cioè che possiamo sentirla Anche senza Guardare i nostri termometri Quindi aspettiamoci Freddo Un po' inusuale Per il mese Per l'inizio Di dicembre Ormai ultimamente Eravamo abituati Che il freddo Arrivava a gennaio Febbraio Marzo Insomma E questi mesi E' una invece Molto autunica Lunali Questo invece Sarà un inizio Dicembre Molto invernale Poi vedremo Cosa succederà Nel corso Del dodicesimo mese Che inizieremo domani Alle 7.30 E 8.10 Con la nostra Rassegna stampa Ma l'informazione Torna oggi Alle 12.45 Io ringrazio Paolo Solari Che ha curato La parte tecnica In regia E Cristina Oneto E Andrea Capitani Dalla redazione E appunto Noi ci vediamo domattina Da parte di Marco Revello L'augurio di un'ottima giornata A tutti E' un'ottima giornata